Adesso chiamiamo argomento, mentre vi stiamo trasmettendo il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli nella sala del Consiglio Comunale a Fano dove si sta svolgendo la seduta monotematica sul tema scottante della sanità. A seguire i lavori per noi c'è Lino Balestra che è collegato in questo momento in diretta. Buonasera Lino, allora dici tutto quello che è successo sin qui. Buonasera Marco, buonasera cari telespettatori. Luca Ceriscioli e il suo staff sono arrivati intorno alle 18.35. Ad accompagnarlo con lui anche Carmine Di Bernardo, il direttore di Area Vasta 1, e Maria Capalbo, la neodirettrice di Marche Nord. Ad attenderlo una sala consigliare gremita di non solo consiglieri e amministratori, ma anche di tanti operatori sanitari e anche tanti medici. Noi prima che lui entrasse nella sala a tenere la sua dichiarazione, lo abbiamo fermato e gli abbiamo fatto qualche domanda. Prego la regia di mandare l'intervista con il Presidente della Regione Marche. L'esigenza più importante credo sia riportare quello che è il dibattito su aspetti molto importanti per la salute dei cittadini nei nostri territori, su binari che non sono quelli della sfiducia, della disillusione dopo tantissimi anni di attesa in processo infinito, ma quello di ricostruire le ragioni di quel percorso e fare in modo di trovare la strada per poterlo realizzare. Quindi è recuperare un senso che il tempo ha logorato inevitabilmente, portando tutti quanti a preoccuparci e chiederci quale può essere il futuro, invece di scoprire il valore di una scelta strategica che rimane ancora oggi estremamente importante e trovare l'occasione per ragionare insieme, per poterla ribadire e ritrovare le ragioni di quel percorso. Ci sono due punti importanti nella mente dei fanesi, sono il punto nascita e la sede di Chiaruccia. Quali muove su questi aspetti? La sede di Chiaruccia è la proposta che già allora venne fatta dal Consiglio Comune di Fano insieme a Fosso Seggiore. Così come Muraglia, Case Bruciate, Fosso Seggiore, Villa Fastigi furono le proposte allora del Consiglio Comune di Pesaro. Ma hanno vissute così, cioè devono essere messe su un tavolo, poi verificate e confrontate. I punti nascita sono un aspetto processuale, abbiamo fatto il primo passaggio di chiudere alcuni, c'è un riassetto, poi ce ne saranno altri, poi riassetti. Preoccuparci oggi di quello che è un tema che ci impegnerà fra due anni e mezzo, dove potremmo scoprire che magari uno siamo già verso una costruzione nuova e non abbiamo l'esigenza di decidere dove metterlo perché sappiamo già dove va a finire. Ho ancora di più che attraverso determinati percorsi hai la numerosità sufficiente per mantenere di entrambi. Mi sembra veramente, come dico, volere a tutti i costi anticipare un dibattito sul futuro, quando invece è importante costruirlo quel futuro dando quella risposta sulla qualità, sui servizi per i cittadini del nostro territorio che se la meritano. Una cosa che è venuta fuori nelle dichiarazioni a stampa è stata la velocità sulla quale questa delibera è entrata in campo. Questo ha creato qualche problema. Sì, anche perché la delibera ancora non è delibera, è ancora un più problema. Normalmente si fa sempre le delibere e si doveva aspettare due anni e non succedeva niente. Qui non l'abbiamo ancora fatta e già si sono visti gli effetti. Va registrata questa velocità in maniera giusta che non sia un perdere il tempo, un menare il camperlaia, ma neanche precorrere quelle che sono decisioni ancora da prendere. Ecco, queste erano le dichiarazioni a botta calda del Presidente, considerazioni che poi lui ha tenuto anche nella sala consigliare. I lavori li ha aperti la Presidente Rosetta Fulvi, subito accogliendo insomma colui che ha preso il posto di Maria Antonia Cucuzza, il nuovo, insomma colui che ha preso il suo posto Mirisola. Dopodiché è stata la volta del Sindaco Massimo Seri che ha ribadito punto per punto alcuni concetti chiave del percorso che ha portato fin qui e ha naturalmente fatto sì che questo doppio incontro tra Ceriscioli e Seri avvenisse proprio per chiarire alcuni punti. Lui ha ribadito che Chiaruccia è il sito da lui indicato non per una questione campanilistica ma perché secondo lui è baricentrico. Il bacino di utenza di Fano e dell'ospedale di Fano è di 130.000 abitanti considerando tutto l'Interland. Dopodiché ha detto che vorrebbe da subito risposte chiare e che sarà lui il primo a prendere iniziative forti se queste risposte non arriveranno a brevissimo tempo. Ha anche detto quelle che sono le sue, oltre a fare una naturalmente disamina di tutta la vicenda, a partire dalla creazione di Marche Nord, ha voluto ribadire e fare delle proposte. Le proposte sono state quattro. Lui ha chiesto subito di attivare tutte le scelte che sono state interrotte a suo tempo e che hanno portato appunto a far sì che ci fosse la creazione di Marche Nord. Poi vorrebbe la messa in sicurezza dei pazienti attraverso due cose. Una cardiologia H24 con dei posti anche letto per gestire le emergenze. Una chirurgia, anche questa H24, per far sì che gestisca le emergenze provenienti da altri reparti, perché lui ha detto chiaramente che un ospedale senza una chirurgia d'emergenza, una chirurgia pronta ad accogliere alcune situazioni che si possono creare anche negli altri reparti, è un ospedale destinato a morire. E poi la quarta, naturalmente anche riservare dei posti nel vicino reparto di oncologia a Muraglia. E poi naturalmente un appunto sulla pediatria, lui lo ha fatto. Seri ha detto che Fano ha una vocazione in pediatria. C'era l'ospedaletto naturalmente dei bambini, proprio poco distante dall'ospedale Santa Croce. E quindi la vocazione per il punto nascita è quella destinata a essere un nostro importante. Però avete sentito dalle dichiarazioni di Ceriscioli all'inizio, proprio stimolato su questo aspetto, che è un problema che rimanderà più in là, perché non lo ritiene urgente. Però questo sarà un tema ancora caldo per i prossimi mesi a venire. Bene, ora mentre noi vi parliamo, nella sala consigliare si tiene il dibattito, si è aperto il dibattito e i lavori dureranno ancora per diverse ore. Io restituisco la linea allo studio. Grazie. Bene, grazie Lino Balestra.